Musica Telespettatori ben ritrovati con l'informazione di Telediogene ieri presso la Prefettura di Crotona e riunione interforze dedicata al contrasto dell'abusivismo commerciale. All'incontro ha partecipato anche l'assessore comunale dell'attività produttiva Franco Barretta che sentiamo ai nostri microfoni. Mercato di via Giacomo Manna. La Prefettura di Crotona ieri su diversi esposti presentati dai cittadini ha convocato un incontro interforze per discutere dell'abusivismo a via Giacomo Manna. Abusivismo interno ed esterno al mercato perché non parliamo dell'abusivismo solo esterno, cioè dove si mettono quelli con le bancarelle fuori dai box, ma anche all'interno del mercato perché ci sono esercenti che non sono in regola con i contratti e con il pagamento delle quote. Non erano in regola prima, l'assessore Franco Barretta ha cercato di mettere in ordine la questione e si è scontrato purtroppo con una gestione da parte dei dirigenti del comune che fa venire i brividi. In che senso? L'accatestamento dei box che deve essere fatto con i nomi degli assegnatari. Ebbene, è stato sbagliato, è stato sbagliato. L'accatestamento non corrisponde al nome, non corrisponde al numero dei box. Per cui il lavoro fratto da Barretta in questi mesi all'assessorato alle attività produttive rischia di saltare. Perché? Perché non può fare un contratto e assegnare un box che sulla carta è stato assegnato a un altro. Questa è la situazione. Quindi nonostante gli sforzi, poi c'è la questione del mercatino del pesce all'interno, dove ci sono appunto gli spazi per vendere il pesce. Attualmente si stanno vendendo fuori. Sto facendo una sintesi di quello che è successo, Barretta. Allora, che cosa? Lì sono intervenuti in ass. È stata disposta da parte della Procura della Repubblica di Crotone il sequestro perché le condizioni igieniche non erano rispondenti ai canoni previsti per la vendita del pesce. Il Comune ha fatto un intervento messo in sicurezza di quella zona, l'ha riqualificato. Sono ormai 4-5 mesi che i lavori sono finiti e la gente continua a vendere il pesce in mezzo alla strada, sotto il sole, sotto la pioggia, sotto la polvere, con tutto ciò che ne consegue. Perché? Perché chi doveva trasmettere la documentazione dell'avvenuta riqualificazione ai Nassi di Cosenza per ottenere il dissequestro dell'impianto non l'ha fatto. O l'ha fatto nelle ultime ore. E allora la Prefettura ci ha voluto vedere chiaro su questo e ha convocato una riunione. Alla riunione della Prefettura ha partecipato anche Barretti. Ho sintetizzato bene Barretti. In abbondanza. Allora, in ordine. Intanto perché questo? Perché abusivismo è sinonimo di illegalità. Quindi è da questo concetto che si parte. Si parte nel stabilire la legalità all'interno di questa città e anche, se volete, un senso di civiltà che in questi mesi è mancato e sta mancando tutt'ora. Da qua si parte. Per dire che cosa? La volontà che l'amministrazione ci ha messo per risolvere questo problema è evidente. È evidente perché noi abbiamo iniziato nel mese di marzo ad incontrare i cosiddetti abusivi. E i cosiddetti abusivi ci hanno detto che non siamo solo noi gli abusivi, anche quelli all'interno sono abusivi. E quindi abbiamo cercato con la solita... Ricordiamoci perché la gente... ma dove era Barretta? Perché l'ha scoperta a marzo? Perché Barretta è diventata assessore alla fine di dicembre, il 31 di dicembre, quindi al primo gennaio scorso. Quindi il tempo di mettere i piedi per rendersi conto. Giusto? Perché qualcuno potrebbe dire, ma Barretta, c'è bisogno che glielo dicono, dov'era? No, niente. Eravamo lì. Per cui abbiamo avuto incontro, incontro anche con i vigili, insomma. Per fare che cosa? Per individuare un percorso. A nessuno gli è stato chiesto domani paga gli arretrati. Perché quelli che sono all'interno devono dare al comune un po' di soldini, circa 250.000 euro. Quelli sono gli arretrati che il comune deve incassare dagli esercenti che utilizzano i box di via Giacomo Manna. Perfetto, 250.000 euro. E nessuno è andato lì a chiedergli, dammi i cinque anni arretrati e poi ti faccio il contratto. Bensì, sempre con la voglia di mettere a posto le cose e dare la possibilità a queste persone che vivono anch'essi di una difficoltà e di una crisi enorme, di dire almeno mettetevi a posto col contratto, pagate solo le tasse e pagate un mese. Dopodiché nei mesi successivi si paga uno nuovo e uno vecchio. Il mese corrente è un mese arretrati. Si paga uno per recuperare e l'altro per stare in corsa senza accumulare altri debiti. Stiamo parlando di 80 euro al mese, perché qualcuno può pensare, dice vabbè dove vanno a prendere tutti quei soldi. 80 euro al mese in un mercatino come quello, in un centro commerciale come è diventato quello. Insomma è un qualcosa che si può togliere, non è una cosa esagerata. Perché se uno di loro volesse trovare un posto in città deve dare 700 euro per un magazzino di 15 metri quadrati, tanto per cominciare. Quindi lì ci stanno. Secondo il comune è equo il pagamento del... Se sono delle tariffe che abbiamo minimi, abbiamo stabilito una tariffa minima. Qualcuno gli ha chiesto gli interessi, come qualcun altro si è messo ad andare in gira dicendo queste cose. Niente di tutto ciò. Nessun interesse. Si paga... Si paga quello che... Anzi, anzi, c'è la disponibilità del comune a riprendere tutto il vecchio per vedere se riusciamo a fargli anche qualche sconto, se ci sono dei pagamenti immediati. Voglio dire, è una partita aperta e c'è una disponibilità a 360 gradi da parte del comune. Detto questo, il problema era anche all'esterno. E all'esterno ci sono coloro i quali non sono in regola. Mentre all'interno... Ci sono gli assegnatari. Morosi, morosi, detti morosi. Sono iscritti alle Camere di Commercio, voglio dire, sono in regola dal punto di vista... Quelli fuori, non tutti erano in regola. Cioè l'abusivismo è a 360 gradi. Cioè nessuno è iscritto alle Camere di Commercio, nessuno paga tasse, nessuno... Ora, non si può sopportare una situazione del genere. Anche perché tu la fai a fianco a uno che è legalizzato. Che paga le tasse. Che paga le tasse, che paga tutto. Quindi diciamo se vi è, siamo alla presenza di una concorrenza sleale. Concorrenza sleale. Quindi sono due i fattori. Una è legalità e l'altra è concorrenza sleale. Quindi queste due cose sono insopportabili per quanto mi riguarda. Per questo avevo, come sollecitato, un incontro con loro e cercare di trovare una soluzione. Dopodiché abbiamo fatto più incontri. Gli abbiamo detto qual è il percorso che bisognava fare. Sto parlando di quelli all'esterno. E gli ho detto che lì non potevano stare e dovevamo trovare un'altra area. E insieme abbiamo trovato un'altra area che sarebbe il Palamilone. Il parcheggio sopra il Palamilone. Il parcheggio sopra. Quello che dà l'accesso pure al Parco Pignera. Esatto, il Parco Pignera sarebbe via Giovanni Falcò. Allora lì c'è tutta l'area necessaria, ci sono i parcheggi, abbiamo addirittura accettato anche le misure che loro ci hanno dato. Un 4x6, che non è una cosa da niente. Ma lì si farebbero dei box? No, no. Alla perca. Parliamo di ombrellone, la mattina aprono, parliamo di mercato di strada. La mattina aprono, alle 2 chiudono e poi c'è parcheggio per tutti, insomma, ritorno alla normalità. Ma questo per loro è un vantaggio. Ho detto di più, ho assunto io un impegno. Se ci mettiamo d'accordo tutti quanti insieme e stabiliamo una data, giorno X, apriamo quel mercato, vediamo se per quella data io vi fornisco anche un contributo per comprare gli ombrelloni tutti uguali, in modo tale da vedere anche dal punto di vista estetico una veduta, un occhio un po' particolare. Quindi non andare a fare un giallo, rosso, verde, se non qualcosa in mille colori. Benissimo, abbiamo visto anche chi vendeva l'ombrellone, abbiamo visto anche che misura doveva essere, un 4x3 l'ombrellone. Insomma, voglio dire, tutti questi passaggi sono stati fatti. Siamo stati al Palamilon, si sono individuate le aree da dove bisognava iniziare, qual era il rispetto che bisognava avere. Perché il comune si è prorogato a pulire, quindi ha lavato il piazzale, lo ha pulito prima, ha lavato, dopodiché l'abbiamo numerato e lì c'è numerato, abbiamo messo le insegne, diciamo così con i divieti. E perché non si apri? E loro non ci sono voluti andare, perché? Prima dovevano andare all'inizio di agosto, però giustamente mi chiamano e dicono, guarda, No, no, abbiamo i nostri clienti, ma è il periodo di ferragosto dove si può guadagnare qualcosa, se ci mandate via di qua, poi, benissimo. Allora, quando restiamo d'accordo? Il 26 di agosto, il 26 di agosto che è finito tutto. Dal 26 di agosto, prendiamoci una settimana che stiamo guardando qua, il 2 di settembre. Gli ho detto che il 2 di settembre è l'ultimo giorno utile per ragionare. Dopodiché io, con gli illegali, con gli abusivi, con coloro i quali sono spregiudicati da questo punto di vista, io non parlo più. Parlo con le autorità competenti. E quindi in prefettura? E quindi... In prefettura cosa avete deciso? In prefettura, io devo ringraziare il prefetto per la sensibilità che ha avuto a preparare questo incontro. C'erano le forze di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, i vigili urbani, c'era il comune e il prefetto. E quindi si è concordati insieme che questo stato di cose non può più esistere, che metteremo a posto, diciamo, se l'aria che riguarda i pescatori, i pescatori, la peschiera, diciamo, la parte che riguarda lì. E poi subito dopo provvederemo... Nei prossimi giorni ci sarà finalmente la restituzione dell'aria per vendere il pesce all'interno del mercatino? Sì, sì. Saranno tolti quelli che stanno fuori? Se quelli che sono fuori, che in questo frattempo comunque alcuni hanno già in regola, altri hanno già completato la regolarità, entreranno dentro e occuperanno gli spazi che sono stati destinati da contratto. Quindi nessun problema. Subito dopo, ho detto, passeremo agli esterni. E quindi io vorrei... Farete, controllarete gli interni, metterete a posto anche gli interni. Metteremo prima a posto la peschiera, che è la cosa che ci riguarda di più che urgente. La più urgente. Per i motivi che abbiamo. Dopo andiamo verso gli esterni. Faremo prima un'opera di convincimento, quindi a non andare lì, perché lì da quel giorno in poi ci saranno tutti i vigili. Quindi non è che lo facciamo oggi e non lo faremo più. Ci saranno i carabinieri, i carabinieri. Sarà un'attività interforza. Interforza per un lungo periodo. Poi entreremo dentro per capire chi ha firmato il contratto e chi non ha firmato il contratto. Perché poi la scusa che ci sono quelli fuori, la scusa della concorrenza sleale, non c'è più. Quindi dovranno sistemare. Se poi uno ritiene che lì non è un posto che fa il suo caso, lasci che ci sono altre 700 persone. Deve lasciare il box e andare via. Questa è l'operazione che va fatta. A tutte quelle persone che mandiamo via lungo quella strada, che manderemo via dalle rotonde, che manderemo via... Perché tutta la città sarà controllata. Che manderemo via da quelli che si mettono vicino alle fontanelle. E quindi ne approfitto per già avvisarle da adesso che un camion non può prendere uno spazio di cinque. Se prende un treno, diciamo così, è diventato un treno. Quindi lo spazio è di quello che loro devono utilizzare. Possono stare nelle rotonde o in qualsiasi altro punto della città, coloro i quali sono ambulanti e sono dotati di furgone o di mezzi adeguati. Parliamo di quelle della bufala. Devono avere i frigori feraccesi, le temperature devono rispettare le temperature, quello che è necessario. E non possono esporre prodotti fuori. Se parliamo di oltrofrutta è la stessa cosa. Devono avere, come dire, dei mezzi adeguati. E non possono esporre prodotti fuori dal mezzo. Che sia chiaro. Altrimenti si sequestra la merce. Siccome abbiamo la mensa dei poveri che malaguratamente purtroppo cresce di giorno in giorno. La presenza della crescente di giorno in giorno. I consiglieri comunali di Crotone e dei Democratici, Flora Scurco e Enrico Pedaci, attraverso un comunicato stampa, denunciano la perdita da parte dell'amministrazione comunale guidata da Vallone di un finanziamento di 890 mila euro per la realizzazione di 12 alloggi di edilizia sociale. Ne parliamo con Enrico Pedace. La poca attenzione del dirigente del quarto settore ha fatto perdere al comune di Crotone un finanziamento di 900 mila euro. La denuncia, a denunciare la circostanza, sono due consiglieri comunali dei Democratici, Flora Scurco e Enrico Pedaci. Allora, Pedace, ce la racconti bene questa storia? Il comune di Crotone ha perso 900 mila euro. Perché? Allora, a gennaio 2012 è stato fatto un bando dove nel marzo 2012 il comune di Crotone veniva inserito per un finanziamento di 900 mila euro. Il comune aveva partecipato a questo? Partecipato, sì. E quindi era stato inserito tra i vincitori? Esattamente, il 16 marzo del 2012. Tra quelli che avevano diritto? Esatto, il 16 marzo del 2012 il comune di Crotone viene inserito con la somma di, sono quasi 900 mila euro. Per fare che cosa? Per alloggi popolari, per case popolari. Allora, questa è la crisi che c'è in città. Questa è 900 mila euro dovevano servire? Dovevano servire per creare nuove alloggi. Per realizzare nuove case popolari. Il bando parlava chiaro che entro 60 giorni dal ricevimento dell'accredito, non dell'accredito, che il comune di Crotone era inserito nel bando che aveva acquisito 900 mila euro. Dopo essere stati individuati tra gli aventi diritto al finanziamento, il comune aveva 60 giorni di tempo. Per inviare la documentazione, cosa che non è stata fatta. Oggi noi ci troviamo al mese di novembre, perché siamo oggi, fino a ottobre 2013, sono passati i famigerati 60 giorni e il comune di Crotone... Quando sono passati i 60 giorni? Sono passati dal 16 marzo 2013, quindi a giugno, diciamo a ottobre 2012 sono finiti i tempi. Ma perché questa cosa? Se ne sono dimenticati? Perché? Ce lo deve spiegare la dirigente, quali sono i motivi che non sono stati inviati i documenti e perché si sono persi questi fondi. E le dirò di più. La dirigente del quarto settore ci deve dire i motivi, visto che ci sono pure gli alloggi di Poggio Pudani che ancora non sono stati affidati. E noi l'abbiamo scritto pure nel comunicato. Ma quello che ci preoccupa è capire perché arrivano 900 mila euro al comune di Crotone e che devono essere rendicontati, o meglio, devono essere inseriti per la quota parte che aspetta il comune nel bilancio. Il comune di Crotone si arroga il lusso di perdere 900 mila euro... Non sono stati inseriti nemmeno nel bilancio? Nemmeno nel bilancio. Allora noi diciamo una cosa, come consiglieri, visto che siamo all'opposizione, che noi stiamo già lavorando per vedere come possiamo recuperare questi fondi all'interno della regione. Come non farli perdere. Come non farli perdere. Ma quello che mi preoccupa di più è che al quarto settore sembra, come dire... Settore urbanistica stiamo parlando. Stiamo parlando dell'urbanistica dove non riusciamo a capire, non riusciamo a sapere quello che succede. Quello che ci preoccupa veramente, glielo dicevo prima per non ripetermi sulle cose, è che il comune di Crotone non può perdere 900 mila euro per la negligenza, per la mole di lavoro, però sono tornati indietro, per la disattenzione, 900 mila euro, e che la dirigente ci spiegasse, visto che la dirigente è lei quella che vigila su tutto, che ci dicesse quali sono i motivi che hanno spinto il comune di Crotone di rifiutare i 900 mila euro, anche se a mio modesto parere, il comune di Crotone, con la crisi di alloggio di edilizia popolare che c'è, con la crisi che attenaglia la città, già 100 euro perderli, è un grave schiaffo soprattutto nell'interesse della collettività e della città di Crotone. Il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone, il professor Rocco Antonio Nostro, comunica che sono in via di affidamento i lavori per la copertura e l'utilizzo dello spazio ubicato presso il vecchio pronto soccorso. Di questo e di altro ci parla Gaetano Megna. Finalmente si riempirà questo vuoto davanti all'ex pronto soccorso dell'ospedale di Crotone, che è stato creato nel momento in cui si doveva realizzare il nuovo pronto soccorso. Poi sono stati, come è facilmente visibile, ci sono stati dei ritrovamenti archeologici, la questione è stata bloccata, la soprintendenza da anni aveva dato le prescrizioni all'azienda sanitaria provinciale per riempire questa vasca d'acqua, perché questo diventava, quando piovese, questo laghetto, questo contenitore, per riempirlo. L'azienda sanitaria provinciale per alcuni anni ha fatto finta di niente, probabilmente per mancanza di soldi, adesso è arrivata a compimento. Il direttore generale della nostra azienda, Rocco Antonio Nostro, ha fatto una gara e ha individuato la ditta che dovrà riempire questa voragine. Questa voragine, una prima gara che era stata fatta per la somma di 25.000 euro, era andata a deserto e nessuno aveva fatto l'offerta, si è stata fatta una seconda gara alzando il quorum dei fondi da 25.000 a 35.000 euro, hanno partecipato tre ditte, una delle quali fa un'offerta in ribasso del 30% e quindi sostanzialmente si arriva alla cifra di 26.50-27.000 euro, alla cifra che inizialmente aveva proposto l'azienda sanitaria provinciale. Come saranno fatti i lavori? Saranno fatti i lavori, dice Rocco Nostro in un comunicato di oggi, seguendo le prescrizioni della soprintendenza archeologica, che ha provveduto ad inventariare i reperti presenti in questo sito, e saranno messi in opera una copertura con un telo TNT ed argilla espansa, così sarà realizzato. Allora, gli occhi nostri comunque vanno alla struttura ospedaliera, abbiamo qui la struttura ospedaliera, alla nostra sinistra è stato realizzato un intervento di riqualificazione, il famoso capottino, il cappottino, alla nostra destra il cappotto non è stato realizzato, il cappotto non è stato realizzato e pare che non ci siano i fondi per realizzarlo, quindi abbiamo il lato est dell'ospedale che si presenta ristrutturato, bello, con colori piacevoli, il lato ovest, quello che si affaccia sul campo sportivo Ezzoscida, che resterà così, un'incompiuta, la solita è un'incompiuta, a Crotone non si riesce mai a realizzare un'opera al completo, si fanno sempre a metà, anche all'ospedale. Politica locale, PD e PDL nel pallone. PD e PDL nel pallone. Il PD è nel pallone perché a distanza di quattro giorni dalla celebrazione delle primarie ancora non è riuscito a stabilire chi ha vinto. Stiamo parlando ovviamente di una vicenda provinciale, le primarie, il congresso provinciale del PD che si è celebrato domenica, i seggi si sono chiusi alle 20 dappertutto, in tutti i 27 comuni, dalle 20 per un'ora circa è stato fatto lo spoglio, da quel momento la commissione di garanzia che avrebbe dovuto ufficializzare l'esito del voto è impegnata in un lavoro certosino per capire, per dipanare alcune questioni che sono sorte. Ci sono stati diversi ricorsi, ricorsi a Crotone, ricorsi al comune di Cotronei, si annuncia anche addirittura un possibile ricorso alla procura della Repubblica perché qualcuno ha raccolto i dati relativi al voto al momento dello spoglio chiedendo questi numeri ai presidenti di garanzia dei vari seggi e nei verbali che sono stati consegnati alla commissione di garanzia centrale che deve stabilire chi ha vinto e chi ha perso, deve ufficializzare il risultato, quei dati non corrispondono ai verbali, quei dati al momento dello spoglio non corrispondono ai verbali, quindi non si esclude che ci possa essere un ricorso addirittura alla magistratura. Una cosa è certa, ancora la commissione di garanzia lunedì, martedì, mercoledì e giovedì si riunirà di nuovo oggi pomeriggio alle 15 presso la federazione di Crotone per audire il sindaco di Cotronei che è uno di quelli che ha sollevato il problema del voto all'interno del suo comune. Ci sono problemi, ci sono problemi e le varie aree che si sono divise per il voto, lo ricordiamo ci sono stati tre candidati quindi divise in tre aree precise, le varie aree non hanno nemmeno iniziato un confronto per cercare di trovare il bandolo della matassa per stabilire come uscire dal cul de sacchi in cui sono cascati. Più di qualcuno sostiene che questo congresso non si concluderà mai e che quindi la federazione di Crotone rischia di essere commisariata. PDL anche nel pallone, soprattutto perché c'è una divisione verticale all'interno di questo partito, una divisione che parte dai livelli nazionali, interessa i livelli regionali e si concretizza anche a livello provinciale e cittadino. Per farvi capire c'è già uno schieramento preciso, che ne dicono i protagonisti? E allora si sta chiedendo alle persone che fanno parte della direzione nazionale del partito, dell'assemblea nazionale, di votare per lo scioglimento del PDL e decretare la nascita di Forza Italia. La proposta è stata presentata da Silvio Berlusconi, questa proposta. per avere, perché si realizzi, ci devono essere, devono votare i due terzi di 800 persone che sono i componenti appunto di questa assemblea nazionale. E quindi qui si sono create le divisioni. C'è una parte del partito che non vuole lo scioglimento del PDL, non vuole la nascita di Forza Italia e si identifica con Alfano a livello nazionale, con Angelino Alfano, e a livello locale ci sono queste divisioni. A livello regionale c'è da una parte Pinocolati che sostiene Berlusconi, dall'altra Scopelliti che invece il governatore della Calabria aveva Scopelliti, che sostiene Alfano. L'area berlusconiana sta crescendo, sta crescendo col passare delle ore. Insieme a Pinocolati si è schierato Mimmo Scilipoti, che è siciliano ma è stato eletto in Calabria, e anche gli assessori regionali Ennio Morrone, Salvatore Pacenza, Mimmo Tellini, Mario Magno, Gabriele Albano, Gesuele Vilasi, Giuseppe Caputo. Ci sono i presidenti Reggio Calabria, Peppe Raffa, e il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. C'è anche l'ex presidente della provincia di Catanzaro, Vanda Ferri. Insomma è diviso verticalmente il partito calabrese. Non c'è quel consenso nei confronti di Alfano e quindi di Peppe Scopelliti che si aspettava. Quale potrebbe essere la ricaduta per questa divisione? Catanzaro, che è stato sempre fedelissimo al Peppe Scopelliti, non si è diviso da Scopelliti, quindi appoggia Berlusconi. A Crotone non si capisce ancora come sarà la divisione. C'è solo Torina Bianchi che si è schierata dal primo momento con Alfano. Per il resto non si capisce bene quello che succederà. Allora, che ricaduta potrà avere in Calabria questa cosa? Se l'area di Berlusconi cresce ancora di più, si mette in discussione l'eventuale ricandidatura di Peppe Scopelliti alla guida della giunta regionale calabrese. Ed ora andiamo in via Risorgimento a Crotone, dove è in atto ormai da tempo un intervento di riqualificazione. Un altro tratto di via Risorgimento sta per essere consegnato al traffico. Siamo quasi arrivati dalla Chiesa, no, non quasi, siamo dall'Immacolata fino quasi al museo. Dalla Chiesa Immacolata fino al museo i lavori sono stati completati. Non le hanno ancora liberate da quello che è stato possibile apprendere perché devono fare indurire per evitare che, appunto, passando con mezzi pesanti, il cemento ancora non è ben sodo. Possono essere degli smottamenti delle pietre laviche che sono state utilizzate per realizzare questo intervento di riqualificazione. Adesso, da qui in poi, sempre secondo quello che è stato possibile apprendere, ci dovrà essere un'altra ditta. Il lavoro della ditta che ha fatto questo intervento termina qui. Da qui in poi deve esserci un'altra ditta e per il momento, probabilmente, sarà aperto al traffico l'accesso da Piazza Duomo fino a Piazza Castello, che in qualche modo aveva posto in un quasi isolamento il centro storico di Piazza Castello. Però ci sono alcune cose che, se l'intervento è finito qui, questa è una bruttura. Bella la strada, è stato fatto un intervento molto bello, anche se qui, quando hanno scavato, era stato trovato in un pavimento quasi intatto. Se avesse voluto fare un'opera positiva, avrebbero dovuto recuperare quel pavimento. Va bene. Detto questo, si presenta così questo tratto e soprattutto nei vicoli. Guardate qui. Insomma, che si fa? Si fa fino a qui e poi quest'altro piccolo tratto non si realizza la riqualificazione. Per qualche centinaio di euro si lascia così. Ebbene, sono le cose che si fanno a Crotone, sempre a metà. Un bicchiere sempre, o mezzo pieno o mezzo vuoto. E la gente, quando le cose vengono fatte così, il bicchiere lo vede sempre mezzo pieno, mezzo vuoto. I giovani imprenditori di Confindustria a Crotone stamane hanno consegnato il ricavato di una raccolta di beneficenza all'associazione On The Road. Questa conferenza stampa è perché volevamo concludere un progetto che abbiamo iniziato il dicembre 2012. Come gruppo avevamo, la nostra missione è quella di seguire sempre e soprattutto le scuole, i ragazzi delle classi quarte e quinte, per avvicinarli al mondo dell'impresa e al mondo del lavoro. Però abbiamo sempre tenuto anche un angolo legato alla beneficenza. La finalità del progetto dell'anno scorso era quello di raccogliere dei soldi durante una festa, un aperitivo che si è svolto tra tutti gli associati di Confindustria e che era anche aperto ad ossidi esterni. Abbiamo raccolto una cifra di 1.600 euro e abbiamo poi tenuto questi soldi in un cassettino fermi in attesa di destinarli a qualche associazione o a un progetto specifico o a qualcosa legato anche all'ospedale di Protone, qualcosa che comunque fosse attinente alle nostre idee e al perché avevamo deciso di raccogliere questi soldi. Durante l'anno, soprattutto veramente verso l'estate, abbiamo sentito di On The Road, di questo progetto. Ci siamo un po' informati, abbiamo chiesto più o meno come funzionasse la loro attività e abbiamo pensato che effettivamente a Protone ci sono delle realtà che noi neanche ci aspettiamo e che questi 150 volontari che lavorano per On The Road, ma che non sono soltanto coloro che vanno a distribuire i pasti o che vanno a distribuire l'abbigliamento, ma sono anche tutti quelli che stanno dietro, gli autisti, le signore che lavorano e che cucinano per distribuire questi pasti che vengono distribuiti ogni giorno, ogni sera alle 19.15. Ma sono anche, loro non fanno solo attività di volontariato, principi e ammigliamenti, ma fanno anche assistenza sanitaria, assistenza farmaceutica. Quindi effettivamente è un volontariato a 360 gradi. E quindi abbiamo pensato come gruppo giovani che effettivamente quei soldi contenuti nel cassettino potessero effettivamente essere donati ed evoluti all'associazione, a un progetto On The Road che sarebbe la società cooperativa, sociale, prodono community. Ci spostiamo a Cotronei per l'abbattimento di un manufatto abusivo. Questa mattina una ditta incaricata dal comune di Cotronei ha proceduto alla demolizione di un manufatto di circa 400 metri quadrati che era stato costruito tra i comuni di Petiglia, Policastro e Cotronei e adibito a stalla per le vacche, per gli animali che praticavano il pascolo abusivo. Una vicenda che ha visto l'intervento anche della prefettura di Cotrone, non solo negli ultimi giorni, ma anche nel passato perché c'erano state le denunce da parte dei proprietari di terreni, soprattutto ricadenti nel territorio comunale di Cotronei, perché alcuni proprietari di animali praticavano il pascolo abusivo in terreni non di loro proprietà, c'era stato questo intervento. Adesso la prefettura di Crotone, d'accordo col comune di Cotronei, hanno deciso di abbattere anche il manufatto che serviva appunto da ricovero, da stalla per quegli animali che venivano utilizzati per il pascolo abusivo. Sentiamo a caldo quello che hanno da dire i fratelli Carofalo dell'azienda Carofalo. Allora loro ci hanno fatto una denuncia che dicono che hanno fatto questi locali abusivi, non sono abusivi, noi ci abbiamo comprato negli anni 40, ci abbiamo comprato già come sta anche con l'azienda, quindi non sono come dicono loro che sono un locali abusivi, il comune di Cotronei, c'è sempre stato questo qua. Per cui secondo voi? Ma non lo so secondo me cosa c'è sotto perché fanno così, se la politico cos'è non lo so, perché è una cosa assurda, non è mai successa una cosa di questa in questi territori. Comunque diciamo che risulta una cosa abusiva, ecco risulta, e che comunque questa esecuzione è illegale. Però diciamo, se tu vai a vedere tutte cose abusive sono, ma non i capannoni così e i locali ovili, e l'appartamento hanno fatto tutti abusivi, i ristoranti sono tutti abusivi e quindi stanno a applicare queste cose qua. Io non la vedo una cosa diciamo, poi non ci hanno neanche avvisato, gli animali adesso sono liberi. E non lo so io. Il comune di Cotronei comunica che l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri cittadini in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti sarà il seguente. Orario continuato da oggi giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, con apertura alle 8 e chiusura alle 16.30. Si sono celebrati stamane nella cappella dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone i funerali del dottor Mario Greco alla moglie, Maddalena Autiero, socia sempre in prima fila del Tribunale dei diritti del malato cittadinanza attiva, Aido e Avo, e ai tre figli le più sentite condolianze della redazione di Telediogine. Vediamo il tempo, previsto per domani su Crotone e provincia, si prospetta parzialmente nuvoloso, visibilità ottima e vento di 10 nodi, 23 gradi, la temperatura massima prevista nella città capoluogo, 14 la minima. Ed ora il bollettino nautico del Marlione, un tempo, vento da sud-est a forza 5 in attenuazione, locali pioggia in attenuazione, visibilità discreta, mare poco mosso, tendenza, vento da nord-est a forza 3 e parzialmente nuvoloso. Bene, con questo è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.